Tu vieni da me, io ti ascolto, o io vengo da te, certo, chiaramente, anzi più probabile che io venga da te, ti ascolto, ti ascolto in un certo modo perché vado a cercare le storie da raccontare, quindi ti farò delle domande, sarà una conversazione molto particolare, molto, molto particolare, perché io sono alla ricerca di quegli elementi che mi mettono nella condizione di creare una grande storia, indipendentemente da come questa storia verrà veicolata. Queste scelte devono essere fatte in base a un ascolto e questo ascolto deriva da una conversazione, una conversazione che si svolge tra me, te, i tuoi collaboratori, in via privata, una conversazione che toccherà degli elementi anche della vita personale, non solo della tua vita professionale, perché le storie hanno radici nel profondo e questo profondo noi lo dobbiamo tirare fuori per poi cercare di capire che cosa possiamo prendere e come lo possiamo raccontare. Ma come costruiremo questa storia insieme? Come io ricaverò questi elementi? Che cosa ti proporrò? E come possiamo andare avanti e creare il messaggio più adatto? Beh, questo però, come si dice, è un'altra storia.